Oggi si intrecciano fatti apparentemente distinti che a mio avviso non lo sono e sui quali voglio intervenire. Partirei da questa vergognosa copertina di un settimatale nazionale che si chiama l'Espresso. Quando ero ragazzo lo leggevo, lo leggevo con molta attenzione, ricordo c'era Giovanni Valentini, mi sono anche formato su questo giornale. Per la verità è da tempo che ha preso una piega diversa, ma non è questo veramente oggetto il dibattito, però io credo che questa copertina grida una risposta immediata. Noi oggi approveremo una delibera di giunta, la approveremo qua in Consiglio Comunale in cui diamo mandato all'Avvocatura del Comune di agire immediatamente con la massima forza per l'azione civile e penale nei confronti all'Espresso. Allora, io voglio fare un ragionamento. Io sono disposto a farmi ammazzare in piazza per due cose in cui ho creduto da quando ho iniziato a frequentare il liceo, che sono l'indipendenza e l'autonomia della magistratura e l'indipendenza e l'autonomia dell'informazione. Con la pari forza, però, da sempre, soprattutto quando ho fatto il magistrato, ma anche adesso faccio politica, cerco di denunciare alcune cose che molti non hanno il coraggio di fare. Le deviazioni che ci sono forti e ramificate anche all'interno della magistratura e pezzi di informazione non residuali, per la verità, che sono tutt'altro che libere e indipendenti. Questa non è una pagina di cattiva informazione, io la penso in modo diverso. Questo è un attacco premeditato alla città di Napoli. Questo è un attacco che viene fatto alla città di Napoli perché io ieri mi volevano far commentare questi articoli, non l'ho voluto fare, perché prima di commentare io voglio leggere, perché altrimenti commento al buio e siccome ho un grande rispetto per l'indipendenza e l'autonomia della stampa, ho detto io commento dopo che ho letto. Ebbè l'entità del risarcimento che ci può risarcire. Perché oggi un americano che sta a New York, un londinese che sta a Londra, l'espresso si legge in tutto il mondo, si legge in Italia, qualcuno che vorrebbe venire a Napoli, l'altro giorno una giornalista coreana mi ha chiesto se io potevo rassicurare le persone che atterravano a Napoli, potevano essere tranquille che non gli succedeva niente dal punto di vista della salute personale. Cioè questo è una cosa che io da Napoletano, lasciate un attaglio, poi dopo parliamo del sindaco, io ora parlo da napoletano ovviamente, anche da sindaco, io lo trovo inaccettabile. C'è una cosa, poi leggi l'articolo. Allora, Presidente, tu mi perdonerai se sono un po' più lungo del solito, anche se oggi sono stanco e arrabbiato, ma cerco di essere lucido. Si parte da un'altra copertina dell'espresso, anche quella ugualmente inaccettabile, 2008, dove si dice così ho avvelenato Napoli e si portano le dichiarazioni di schiavone d'alti. Te le vai a leggere le dichiarazioni, non si parla di Napoli. Si parte dal 1997. Allora, un primo interrogativo, visto che noi facciamo i politici attenti, cerchiamo di farli, amiamo questa città. Perché? 1997-2013, cioè sono passate 16 anni. Come ha detto Sodano, queste cose non è che non si sanno. Perché escono adesso? Poi andiamo a vedere i dati che questo giornalista mette insieme. Sono dati che sulla città di Napoli non hanno nessun tipo di approfondimento, addirittura citano che sarebbe pericoloso stazionare più di tre mesi nella residenza del capo ammiraglio della Nato a Posillipo. Guardate, io non ho mai vissuto a Posillipo. Vivo la mia città, ringraziando a Dio, non lo voglio dire. Io ho vissuto tra la Calabria e Napoli. Mi sento dicendo che bevo acqua pubblica, bevo acqua del rubinetto. Ma insomma che non si possa stazionare più di tre mesi nella residenza di Posillipo dell'ammiraglio della Nato, a me sembra veramente, io non lo so, io non ho mai avuto questi dati allarmati, anzi, mi fido completamente, salvo che qualcuno non mi porti la prova contraria, ma io so che l'acqua di Napoli è tra le acque più controllate, in assoluto. Non ci sfugge il dato che a qualcuno dà fastidio. Il referendum è stato a giugno 2012, mi sembra, e Napoli è l'unica città d'Italia che ha attuato la volontà referendare che abbiamo l'acqua pubblica. Non ci sfugge questo dato, che evidentemente il percorso dell'acqua pubblica possa dare fastidio. Chi lo sa come mai Napoli da due anni è la città d'Italia che in via esponenziale ha il maggior numero di aumento di turisti e qual è il danno in questa copertina soprattutto? Perché poi l'articolo è un pessimo articolo come tanti altri pessimi articoli si leggono purtroppo certe volte sui nostri giornali. Io parlo della copertina soprattutto, questa copertina che chiunque su un treno oggi che attraversa il nostro paese, su un aereo, in un'edicola, che danno produce? Allora noi oggi dovremmo mettere in campo e lo faremo. Ogni iniziativa opportuna per cercare di rimediare a questo articolo. Ho letto anche un editoriale del direttore, francamente veramente inaccettabile. Io lo invito questo direttore a venire a Napoli, a girare la nostra città, a guardare le cose che si fanno, i problemi. Ben venga a fare inchieste, perché già lo so, adesso uscirà il comunicato stampa del direttore dell'Espresso, quindi chiariamo anche questo. Non c'è un attentato alla libera stampa di questo signore che non so quanti soldi guadagnerà al mese, una parte li dovrà dare, mi dispiace, alla città di Napoli che noi destineremo alle periferie ai poveri della nostra città, così l'Espresso sarà un po' più povero e la città di Napoli sarà un po' più ricca. Non vogliamo limitare il potere di inchieste, anzi io non ho voluto rispondere ieri perché mi auguravo che l'Espresso avesse fatto un'inchiesta seria. Sarei stato il primo a difendere la mia esperienza perché tanto è vero che i dati riportati non riguardano tutti noi perché riguardano prima della sindacatura dei Pagistris e di questa consigliatura, quindi avrei potuto dire adesso l'acqua è buona, prima probabilmente... No, io difendo anche il prima qua. Questo non significa che non ci sono i territori inquinati e che infatti domani ci sarà, poi verrò anche su questo perché visto che oggi si parlerà anche di terra dei fuochi, anticipo il mio intervento di dopo, faccio un unico intervento, cerco di mettere tutto insieme. Non significa che non ci sia, anzi, purtroppo, purtroppo per noi campani innanzitutto e non per altri abbiamo territori inquinati e pretendiamo che vengano bonificati, ma questa cosa di mettere sempre Napoli, i nostri territori, tutti in un grande calderone di dire che non funziona niente, che bevi l'acqua a Napoli che muori, catterri a Napoli che muori, passi per Bagnoli e muori, non è così. Purtroppo ci sono persone che hanno vissuto vicino a territori inquinati e si sono ammalati in un'altra cosa. Poi lo stesso articolista, questo tal Papagiani, conclude dicendo che in realtà nessuno si è ammalato. Dice che nessun americano si è ammalato, magari si è innamorato perché gli americani io li incontro, sono felicissimo. Certo, adesso annunciamo un'altra cosa a questa aula, con molto piacere. Il primo dicembre apriremo la Nato non più ai militari americani, l'apriremo alla città perché questo comune è riuscito ad ottenere attraverso un lavoro faticoso in questi giorni l'affidamento della ex area Nato al comune di Nato, 100.000 metri quadri che saranno aperti alla città. Magari io sarei incuriosito che armi gli americani hanno tenuto nella nostra città, quindi sono molto incuriosito ad aprire un dibattito con gli americani nella Nato senza polemiche, vediamo un poco se l'hanno tenuta ben pulita quell'area, noi l'andremo a vedere, nel passato si diceva che c'erano armi nei sotterranei, non lo so che troveremo, sicuramente so che dal primo dicembre 100.000 metri quadri dell'ex area Nato saranno affidati alla nostra città. E quindi ci allacciamo, perché questi sono articoli che riguardano l'ambiente, ci allacciamo al tema di oggi ed effettivamente stride un po' che di fronte a un appello all'unità che si fa di fronte a un articolo come questo, noi oggi ci dobbiamo dividere francamente con argomentazioni in parte interessanti, perché poi il dibattito è sempre articolato e si ascoltano anche opinioni critiche interessanti, ma con un attacco che ancora una volta trovo un po' personale nei confronti di un rappresentante di questa amministrazione. Guardate, io non ho mai fatto riferimenti personali e non è perché Sodano va difeso perché ha fatto la campagna elettorale, sul mio penso che la campagna elettorale si è vinta perché io l'ho fatta e insieme a me l'hanno fatta tantissimi altri, quindi non potrei dire appoggio una persona perché ha fatto la campagna elettorale insieme a me, dovrei farlo in confronto di 300.000 napoletani e ci hanno sostenuto. Tommaso Sodano capita non di rato che mi fa anche arrabbiare, capita non di rato che fa delle cose che io non condivido, però vi assicuro che quest'uomo non più giovanissimo, quando io sono sindaco, lavora non meno di 15-16 ore al giorno e vi assicuro lo fa con una serietà e una competenza di cui devo dire oggi mi sarei aspettato una maggiore considerazione. Soprattutto non mi piacciono gli attacchi personali, la città vorrebbe altra cosa, non mi è piaciuto alcuni anche atteggiamenti simbolici che ho visto, ma questa poi sarà la storia che ci dirà chi ha ragione e chi ha torto. Oggi i napoletani si aspettano dal Consiglio Comunale delle risposte per i problemi della città e in quella mozione francamente c'è veramente poco che va in quella direzione, c'è un po' di rancore, un po' di risentimento, un po' di voglia di visibilità, io credo che i voti bisogna conquistarseli quando uno si candida e misurarsi lì, non è il Consiglio Comunale la sede per attaccare oggi un assessore e domani un altro. Oggi qua secondo me noi ci dobbiamo confrontare sui grandi temi della nostra città perché l'attacco che viene fatto alla città di Napoli, come abbiamo potuto vedere, è estremamente forte e oggi l'attacco nei confronti di Napoli è forte per un motivo molto semplice e dispiace che alcuni attacchi vengano anche da persone che potrebbero avere la capacità intellettuale di comprendere che in questo momento Napoli è sotto attacco semplicemente perché c'è chi vuole mettere le mani sulla città in un momento decisivo. Oggi noi abbiamo un dato assolutamente confortante sulla situazione economica della nostra città come testimonia anche articoli del Sole 24 ore recenti. Napoli nel 2014 va in avanzo, Napoli ha messo in sicurezza, a differenza di altri enti locali che esistono sulla nostra regione, quasi tutte le sue società partecipate, manca qualcosina che faremo da qui a Natale. Napoli ha messo in sicurezza il suo personale, ieri abbiamo approvato una delibera con cui si stabilizzano i primi 60 LSU, oltre 200 persone che scorrono nelle graduatorie del concorso, le maestre, la grande battaglia sulle maestre e altre ancora. Il fatto di mettere in sicurezza l'ente e di andare in avanzo è una ghiotta occasione, tra un anno noi pagherimo a 90 giorni i nostri creditori, Napoli è una città in cui continuano ad investire tante persone, il 2 dicembre verrà il Ministro insieme a noi a inaugurare la nuova stazione della metropolitana, Napoli è la città che è il più alto numero crescente di flussi di turisti, insomma di fronte a questo noi ci dovremmo interrogare che possiamo fare meglio, allora se il dibattito serve, come diceva Sodano, quello che abbiamo fatto l'altra volta, a migliorare lo spazzamento che non ci piace, lo sappiamo tutti, l'abbiamo detto l'altra volta, vi ricordate, ho detto tante cose che non ci piace, allora ben vengano questi consigli comunali, se devono cominciare a diventare dei luoghi in cui oggi c'è il rancore con Sodano, domani ce ne confronti un'altra, una pagina che francamente non mappa su, supereremo anche quella perché ne superiamo tante ogni giorno che certo non ci abiliscono, mi preoccupano i patti trasversali che sto incominciando a vedere un'altra volta, le larghe intese, mi auguro anche io che il centrosinistra trovi una ragione migliore per stare in questa città, vedo che un giorno si dice una cosa, un giorno si dice un'altra, aspetteremo questa maturazione all'interno del Partito Democratico, è vero quello che dice Vasquez sicuramente che si dovrebbe costruire un miglior centrosinistra, però io da sindaco di Napoli di sinistra, sono d'accordo con te Vasquez, anche io mi reputo fortemente di sinistra, ma in questo momento sono più che appassionato al centrosinistra, lo dico con molta sincerità, sono appassionato a questa città, io oggi sono veramente avvilito perché questo articolo non mi ha fatto dormire e questo articolo non è né centrosinistra né centrodestra, quindi io lo vado dicendo da tempo, del resto l'ho raccontato anche a un giornale locale che mi ha fatto un'intervista qualche giorno fa, sono stato al sindaco di Venna e mi ha chiesto ma tu di che partito sei? E io ho detto io non ci ho partito, quello mi ha guardato e mi ha detto ma il tuo partito è Napoli, tu devi fare il sindaco di Napoli e Napoli di per sé è un movimento e un partito, oggi sentiamo Rinaldi che ci dà i consigli su Repubblica, se il sindaco deve andare o non deve andare in piazza, caro Pietro il sindaco di Napoli io ti ringrazio ma non piglio consigli da te, il sindaco di Napoli ha una storia personale che è molto più forte della tua, molto e te lo dico con rispetto perché lo sai che ti stimo e ti rispetto, però ognuno deve avere anche la capacità di costruire le storie delle persone, quella non è né la piazza di Rinaldi né la piazza del sindaco, non è nemmeno la piazza tua, è la piazza dei cittadini e delle cittadine, ognuno con la propria storia che va in quella piazza, poi ognuno che si guarda allo specchio e decide se in quella piazza ci può stare o non ci può stare e quindi questo credo che attiene soprattutto alla storia di ognuno di noi, quelle battaglie alcuni le fanno da poco tempo, altri le fanno a giorni alterni, alcuni giorni sono movimentisti e altri giorni sono poltronisti, invece ci sta chi le battaglie le fa quando vestiva una toga, quando faceva il parlamentare europeo, quando sta oggi a fare il sindaco, dice no all'inceneritore di Napoli e a quello di Giuliano, dice no alle discariche di Napoli e di Quarto, un messaggio che mi ha commosso di un mio amico di Quarto che mi ha detto grazie anche alle battaglie tue della tua giunta e ovviamente della tua maggioranza che la probabile discarica di Castagnaro è stata tolta dal piano di scariche, io potevo fregarmi, faccio il sindaco di Napoli, ho speso parole per Marano, per Mugnano, per Giuliano, per Acerra, per Quarto, a me quella piazza non è la piazza del sindaco, anzi a me fa piacere se quella piazza porta proteste e proposte che ci aiutano, perché io so perfettamente chi mi ostacola per non fare inceneritori di scariche e cose di questo tipo nella nostra città, quindi non abbiamo bisogno di mettere cappelli, abbiamo messo il gonfalone perché il gonfalone è della città di Napoli, vedo che c'è tutto un dibattito in questi giorni se il sindaco deve o non deve partecipare, noi non abbiamo, io non ho bisogno di questo tipo di visibilità, anzi mi auguro che sia una piazza dove il cappello non lo metta né il centrosinistra né il Rinaldi né il sindaco né il Sodano né chiunque altro, deve essere una piazza delle cittadine e dei cittadini che vogliono territori più puliti, una politica più pulita e che però hanno anche l'intelligenza e io sono convinto che quella piazza ce l'ha come ce l'abbiamo anche noi, di accompagnare la proposta alla protesta, perché è stato fatto tantissimo in questi tempi e dispiace anche chi perde la via dell'onestà intellettuale, perché io non credo che si può accompagnare un percorso di maggioranza per due anni e poi dopo appena un giorno dire, beh le politiche ambientali che avete, già questa avete, che avete fatto sono completamente sbagliate, è più onesto intellettualmente dire abbiamo magari fatto ancora poco, dobbiamo fare molto di più, dobbiamo fare sempre di più, io poi sono uno che non si accontenta mai e vedere quelli no che noi abbiamo detto contro gli inceneritori e le discariche, quello che abbiamo fatto, che ci riconoscono guarda caso in tutta Italia e in tutto il mondo, perché se Ignazio Marino ci chiama, se Reggio Calabria ci chiama, se Palermo ci chiama, se ci dicono ma come è stata facendo, perché non si rendono capaci di come noi abbiamo fatto a uscire da quella situazione di emergenza, vuol dire che un po' di capacità in campo tutto sommato l'abbiamo messa, su Bagnoli tra qualche giorno probabilmente Ricostruzione Democratica dovrà chiedere scusa pubblicamente, perché un'altra accusa che respingo al mittente, perché noi siamo sindaci da due anni, mentre come è stato ricordato anche prima c'è qualcuno in Ricostruzione Democratica che ha avuto ruoli in questa città e ha frequentato persone che hanno avuto ruoli in questa città, è un tema di verità, di ricostruzione di verità. Noi nei confronti dei poteri forti non ci pieghiamo mai, chiaro Iannello, sei tu che applaudi a lettieri, noi non ci pieghiamo ai poteri forti, non ci piegheremo mai, perché non appartiene alla mia storia personale, perché per non piegarci abbiamo pagato, perché una cosa è fare le chiacchiere in libertà e una cosa è lottare fino in fondo quando hai la possibilità di lottare, firmare atti che vanno contro interessi forti, scrivere sentenze o scrivere atti giudiziari che vanno in quella direzione. Quindi una cosa sono le critiche, dure, aspre, forti, costruttive, anche quando non sono costruttive, vanno bene, altra cosa è usare termini sui quali la risposta per quanto mi riguarda sarà non dura, ma durissima, perché su questo io personalmente, ma ritengo come me tutta la Giunta, non accetta veramente lezioni da nessuno e men che mai di chi non ha una storia personale per poterle dare. Quindi noi oggi superiamo una giornata brutta, a me questo dibattito non è piaciuto, tante volte ho fatto i complimenti a questo Consiglio Comunale, invece oggi secondo me abbiamo scritto una pagina brutta, poi sono particolarmente arrabbiato perché questa pagina brutta si accompagna a una vergognosa copertina dell'Espresso sul quale adesso si aprirà una lotta pesantissima su questo settimanale, su questa copertina, perché noi da oggi in poi dobbiamo mettere in campo, non avendo i poteri finanziari dei gruppi che stanno dietro l'Espresso e sappiamo perfettamente quali sono, perché abbiamo l'intelligenza per capire quali sono i partiti a cui è legato questo giornale e quali sono i gruppi economici che stanno dietro a questo giornale, le larghe intese che stanno dietro a tutto questo, metteremo in campo quella della nostra forza, il cuore, le idee, la passione, i video, le marce, le manifestazioni, le azioni civili, non so quanto quantificheremo, io diceva a Salvio Palma prima, io quantificherei 500 milioni di euro il dato, lui diceva secondo me poco, non lo so, un miliardo, vedremo il direttore dell'Espresso, magari lo computeremo i lavori socialmente utici, ci aiuterà a bonificare le nostre terre, abbandonerà la sua poltrona comoda da direttore dell'Espresso e ci verrà a dare una mano, verrà a darci una mano a Napoli, lo so queste parole ci costeranno, ci costeranno perché ovviamente quanto dovremmo pagare per aver detto che questa copertina è inaccettabile, io non so se questo signore e questi signori che hanno costruito questa copertina si sono resi conto che le parole certe volte sono più pesanti delle bombe e non è un caso che le mafie, ovviamente non faccio un paragone, sia ben chiaro, ma non è un caso che le mafie dopo la stagione delle bombe hanno deciso di utilizzare altri tipi di bombe che sono quelle di inserirsi con l'abito della legalità formale, hanno incominciato da operare nelle stanze del potere, quindi le parole sono pesantissime, per noi queste parole sono più obbo, per me questo è peggio di utilizzare un proiettile nei confronti della città di Napoli, molto peggio, questa è la mia valutazione da ex magistrato, da sindaco di Napoli e da uomo che ama il Sud, che ama un Sud che sta cercando di risalire, che sta cercando di trovare degli equilibri difficili in questa città, che li sta rompendo per costruirne degli altri, che non ha mai avuto l'aiuto di nessun tipo di stampa, ci siamo illusi di poter avere una neutralità, in questi ultimi tempi ci stiamo accorgendo di avere una forte ostilità, allora voi che siete persone col cervello come il mio, interroghiamoci perché c'è questa ostilità così grande, se non valessimo un fico secco, ma perché c'è questa ostilità così grande? Com'è possibile che ci chiedono come abbiamo fatto a recuperare un disavanzo di 850 milioni e un miliardo e mezzo di debito, e non è perché ce li ha dati qualcuno, ma perché ce li stiamo andando piano piano a prendere, e come stiamo riuscendo a rimanere in vita nonostante il cadavere economico finanziario che avevamo ereditato? Allora mi chiedo perché c'è questa azione concentrica nei confronti della nostra città, perché mentre io vado a fare incontri con la passione per questa città che mi contraddistingue mi devo sentir dire dalle persone che incontro, ma mentre tu stai cercando di fare questo c'è uscito 5 minuti da questa stanza chiedendo che Napoli debba fallire, ma perché? A me questa cosa non la riesco più a capire, ma perché? Perché c'è qualcuno che sta scommettendo su questa città? Chi è che scommette? Chi è che scommette su questa città? Quindi dobbiamo alzare moltissimo l'attenzione e per questo ci rimango male che oggi sia stata una pagina comunque di divisione, perché io più volte ho fatto appello al fatto che debbano prevalere le ragioni di unità nella diversità, che non significa né essere proni, né essere servili, né essere alle ali, né essere… insomma ho sentito le parole, non ci voglio neanche ritornare perché non meritano neanche una risposta da quel punto di vista. Oggi si devono scrivere in questi giorni parole forti, parole dove io devo mostrare la capacità di fare una sintesi, però spero che veramente questa sia l'ultima volta che dobbiamo discutere su una mozione di sfiducia personale, ma che si aprano pagine di discussione vera in cui il sindaco mostra la capacità di ascoltare e ho cercato di farlo e l'ho anche dimostrato di saperlo fare, con i miei limiti, le ragioni di chi la pensa diversamente da me, però di avere veramente un unico obiettivo che è la città di Napoli, altrimenti si vedono delle immagini che io non avrei mai visto, gli annello che applaudo le tigre, che firma una mozione che poi quell'altra, cose francamente che non appartengono alla storia di questa città. Io credo che questa città, fammi parlare, non ti ho interrotto nonostante hai detto un sacco di cose su cui ti rispondono, non ti preoccupare, non ti agitare. Quindi io credo che questo Consiglio deve esprimere delle parole forti, la città questo si aspetta, non si aspetta nel rancore di chi ha perso le elezioni, anzi si aspetterebbe il contributo da chi ha perso le elezioni come si fa nelle democrazie, che chi perde dà il suo contributo in modo forte, leale, anche duro, ma nel rispetto di chi ha vinto, così come capacità del sindaco di cercare di allargare, ascoltare, così come il Consiglio Comunale dovrebbe dare indirizzo, controllare, far funzionare le commissioni come è stato detto e scrivere pagine forti. Io se fossi un cittadino di Napoli non sarei contento del dibattito di oggi, la cui responsabilità a mio avviso si addice a chi è stato un po' di tempo facendo delle battaglie personali per costruirsi un futuro politico che a mio avviso non c'è, non si intravede, perché la politica è fatta di voti, di idee, di contenuti e di battaglie, non è fatta di lotte personali, rancorose e meschine. Io credo che Napoli deve volare più alto e da questo punto di vista noi andremo in quella direzione forte, nonostante i tentativi ovviamente di ostacolarci che sono veramente forti, quello che ci danno i motivi di forza e di speranza ce li danno le persantissime persone che incontriamo ogni giorno, che ci sottolinano i problemi e le cose che non vanno, ci incoraggiano ad andare avanti, hanno la faccia pulita come quei ragazzi che oggi ci hanno ringraziato per la delibera che abbiamo fatto, quelle sono le cose che poi ti danno forza, non il rancore personale o altre cose di questo tipo. Adesso nei prossimi giorni oltre ad amministrare la città io mi porrò un unico obiettivo, è cancellare con la forza della trasparenza della nostra città questa copertina vergognosa dell'espresso che fa torto alla libertà di stampa e alla forza democratica che dovrebbe avere in un paese democratico la libera stampa, non quello di distruggere comunità, attaccare città e fare un danno d'immagine irreversibile, ma quello di contribuire con inchieste serie, inchieste serie, sottolineo serie, alla ricostruzione della verità, aiutare la magistratura, aiutare chi governa e dire che a Napoli non cambia mai niente, che inutilmente si fanno delle cose è veramente una falsità, quindi invitiamo il direttore dell'espresso a venire a Napoli, girare Napoli, percorrere in lungo e largo e rendersi conto che Napoli ha problemi, ma Napoli non è peggio del luogo dove lui vive, dove dimora, dove scrive articoli e dove guadagna un sacco di soldi.